Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. A partire dal 17 e 18 aprile 2024, si registrerà un notevole calo delle temperature in tutte le regioni d'Italia, da nord a sud. Ciò è dovuto all'arrivo di aria molto fredda in Italia. Quest'aria fredda proviene dal polo nord e porterà quindi con sé in Italia un clima molto freddo. A partire da mercoledì 17 aprile, le temperature caleranno sensibilmente in tutte le regioni d'Italia e in zone separate comincerà a piovere, con qualche leggero rovescio di neve. Poi, a partire da giovedì 18 aprile, ci sarà maltempo al centro, al sud e in alcune zone del nord, con piogge molto forti accompagnate da nevicate in alta montagna. Il maltempo continuerà a colpire l'Italia almeno fino a quando 20 aprile. Poi, dopo il 20 aprile, è alta la probabilità che l'Italia sia esposta a vere e proprie tempeste di neve, che faranno cadere quantità molto elevate di neve al nord e al centro, e le previsioni indicano nevicate con spessori compresi tra i 10 e i 110 centimetri, con clima molto freddo, venti forti e temperature molto basse. Quindi, in sintesi, a partire dal 17 e 18 aprile, in Italia torneranno pioggia, neve e maltempo, ma l'inverno sarà più forte dopo il 20 aprile, poiché l'Italia sarà probabilmente esposta a tempeste di neve molto forti. Come ho detto, quindi, un'intera settimana di inverno in Italia, a partire dal 17 aprile almeno fino al 23 aprile, Con grandi quantità di neve e pioggia che cadono e maggiori dettagli su questa forte tempesta polare, cercheremo di fornirveli più avanti e in futuro prossimi video.